Ciao a tutti e bentornati al nostro canale DaveSoft Italia. Oggi vedremo l'unbox di uno shaker, nello specifico si tratta del modello di SPM20 a magneti permanenti. Vediamo adesso cosa c'è nella borsa. Abbiamo il manuale del prodotto, l'alimentatore con il cavo a corrado, il cavo con i connettori BNC che serve per collegare lo shaker a un generatore di funzioni esterno, il set di viti ed ecco qui lo shaker. Il modello di SPM20 è uno shaker a magneti permanenti dove è presente una bobina mobile ed il principio di funzionamento è simile a quello di una normale cassa autistica. Sulle shaker sono presenti la struttura di supporto, un generatore di funzione sinusoidale, la manopola del guadagno, un ingresso per un segnale esterno e un display per la visualizzazione delle impostazioni. Dovotando lo strumento vediamo l'ingresso per l'alimentazione e l'ingresso per il raffreddamento forzato. Colleghiamo tutto! Bene, anche per oggi abbiamo finito. Se non l'avete già fatto vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube Devesoft Italia per essere sempre informati. Ciao a tutti e buone misure!